Il primo passaggio per rendere ordinabili online i tuoi prodotti consiste naturalmente nella digitalizzazione del tuo catalogo. La piattaforma Mr.Dally ti consente di creare il tuo personale catalogo di prodotti e personalizzarli con foto, descrizioni e naturalmente prezzi. In autonomia in qualunque momento potrai aggiungere e modificare contenuti. È completamente personalizzabile con tutti i dati, i dettagli e gli elementi della tua attività, quali il tuo logo, i tuoi contatti aziendali e anche la tua Google Map interattiva. Potrai inserire riferimenti alle tue pagine social, gli orari di consegna, gli orari di apertura al pubblico e gli orari di accettazione degli ordini. Infine, potrai definire zone, costi e metodi di consegna e decidere quali metodi di pagamento attivare. La piattaforma Mr.Dally, configurata con i tuoi dati, genera in automatico un mini sito di vendita online. Se hai un tuo sito ufficiale, avrà lo stesso look and feel. Se invece ne sei sprovvisto, il mini sito Mr.Dally sarà configurato con i tuoi colori aziendali e personalizzato con i tuoi dati e i tuoi prodotti. Una volta online, i clienti potranno ordinare facilmente i tuoi prodotti con un click. Il tuo mini sito sarà il canale perfetto per aumentare gli ordini, specialmente se integrato con i principali social network, tramite i quali potrai creare comunicazioni specifiche orientate al tuo target di riferimento. E questo ti servirà da un lato per attrarre nuovi contatti e dall'altro per consolidare la tua clientela fidelizzata. Con il tuo personale servizio delivery, potrai disintermediare e abbattere i posti. Cosa significa? Fino a poco tempo fa, l'unico modo per gestire gli ordini in presenza insieme alla consegna a domicilio o l'asporto era quello di appoggiarsi a partner esterni che, a fronte di una commissione, seguivano direttamente il ritiro e la consegna del prodotto al cliente. Queste aziende però non basano i propri guadagni soltanto sul servizio di consegna, che comunque ti porta ad aumentare il prezzo dei tuoi prodotti. Quello che devi considerare è soprattutto il costo della perdita dei dati dei tuoi clienti che diventano di proprietà di terzi. Esattamente, i tuoi clienti ordinando un tuo prodotto su una piattaforma esterna diventano di proprietà della piattaforma stessa e non sono più tuoi. Tutti i dati di profilazione, come sapere chi ordina e che cosa, quando e da dove, sono dati indispensabili per aumentare le vendite. Cedendo questi dati a piattaforme esterne, anche l'aumento delle vendite diventa loro e non più tuo. Con Mr.Dally, il tuo servizio delivery, ti sganci da questi partner esterni rimettendo la tua attività al centro. In questo modo, puoi puntare sulla comunicazione diretta tra te e il tuo cliente, senza intermediari. Questo ti consentirà di vendere ad un prezzo più basso, aumentare gli ordini e gestire in autonomia tutte le informazioni relative ai tuoi clienti. Una volta si distribuivano volantini nelle cassette delle lettere. Oggi facciamo la stessa identica cosa, ma in modo virtuale. Andiamo a trovare i potenziali clienti sempre nelle loro case, ma andiamo a bussare alla quarta delle loro pagine social. Il 70% degli italiani è iscritto a Facebook. Ti basterà quindi investire nel modo e nel momento giusto per parlare con il tuo target e convincerlo a diventare cliente. Le campagne che potrai attivare dalle tue pagine social, non dal tuo profilo, ma dalle tue pagine, per farti conoscere ad un nuovo pubblico, saranno definite secondo la geolocalizzazione ed il target. Quest'ultimo si basa sulla tipologia dei prodotti che tu commerciate. Per definire il tuo target, potrai sfruttare il database delle informazioni raccolte attraverso la piattaforma Mr. Jelly. Potrai impostare una campagna che intercetti un pubblico molto simile a chi ha dato un cliente. Non perdi tempo e non disperdi denaro. Una volta selezionata la zona ed il target di riferimento, potrai creare promozioni delicate. Ad esempio, potrai prevedere uno sconto sul primo ordine o su una spesa minima. Altre volte, potrai decidere, ad esempio, di omaggiare la consegna oppure di inserire gratuitamente un prodotto in omaggio. Per te questo può avere un costo irrisorio, ma ti assicuro che per il cliente il valore percepito è molto più alto. La pagina della tua attività su Facebook è lo specchio di ciò che vendi. Deve essere ricca di contenuti e costantemente aggiornata. Naturalmente, tutta la comunicazione presente sulle tue pagine social dovrà rimandare al mio sito Mr. Jelly, dove il cliente potrà sfruttare immediatamente la promozione che gli hai proposto ed effettuare il proprio ordine. Infine, sia per i clienti che per i potenziali clienti, potrai comunicare in modo molto profittevole, soprattutto sfruttando le festività e le ricorrenze. Natale, San Valentino, Pasqua, Ferragosto… potrai approfittare di questi eventi per creare offerte dedicate e entrare i tuoi clienti. Cosa significa? Nient'altro che favorire l'acquisto ricorsivo dei prodotti da parte dello stesso cliente. Come? Attraverso l'attività di marketing, ovviamente. Acquisire un nuovo cliente costa 5 volte di più rispetto a mantenerne uno esistente. Chi conosce te o i tuoi prodotti è molto più propenso a ripetere l'acquisto o acquistare nuovi prodotti rispetto a chi non ti conosce affatto. È tutta una questione di fiducia, un comportamento che tutti noi adottiamo naturalmente non solo nei confronti di un negozio, un locale o una marca, ma anche nei confronti delle persone stesse. Come fare quindi per fidelizzare i clienti che hai già in casa? Naturalmente coccolandoli. E qui Mr.Delly viene in tuo aiuto. Il servizio Delivery ti consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie riferite al tuo cliente e creare delle promozioni personalizzate. Ogni volta infatti che il tuo cliente acquista un prodotto dal tuo mini sito personalizzato, tutte le informazioni comportamentali ed anagrafiche sono registrate dalla piattaforma. Nome, cognome, indirizzo, preferenze di orari, che cosa ha acquistato e quante volte, ma anche la scelta del metodo di pagamento. In base a tutte queste informazioni, potrai creare delle offerte dedicate. Ad esempio, se hai una pizzeria, potresti ideare un'offerta dedicata a coloro che scelgono ricorsivamente pizze con impasto integrale, prevedendo uno sconto speciale su questo impasto, oppure incentivando questi clienti a provare un altro tipo di impasto, come quello al camut o al farro. Puoi anche decidere di creare promozioni personalizzate in base alla tipologia di cliente. Ad esempio, se sei un ristoratore, puoi scegliere di rivolgerti a quei lavoratori che necessitano di consumare un pranzo veloce direttamente sul posto di lavoro. Puoi mettere in luce nella tua comunicazione l'aspetto della puntualità delle consegne o dedicare un coupon ad hoc per il menu della pausa pranzo. Chi si rivolge a te è speciale, quindi devi fargli sapere che per te è importante. Ad esempio, puoi pensare di inserire all'interno della consegna a domicilio un coupon per effettuare un prossimo acquisto, oppure un prodotto in omaggio. Se sei un ristoratore, ad esempio, potrebbe trattarti di un piccolo assaggio o di una nuova specialità. Se invece commercializzi prodotti extra food, potresti inserire un tester oppure un tagliando con consigli sull'acquisto dei prodotti correlati. Tutti noi siamo ormai abituati a comprare un prodotto online e bisogna visualizzare contestualmente tutto ciò che a quel prodotto è collegato. Ad esempio, se sto acquistando uno smartphone, vedrò nel banner la proposta di acquistare anche il caricabatterie o le cuffie. Il cliente sarà piacevolmente sorpreso e sarà portato ad acquistare nuovi prodotti. Grazie alla raccolta delle informazioni di acquisto sulla piattaforma Mr.Dally potrai tracciare il ritorno in euro di ogni singola attività promozionale. Per ogni ordine potrai verificarne la provenienza ed il canale di acquisizione, così da ottimizzare i costi delle campagne pubblicitarie, evitando investimenti non necessari. Mr.Dally è predisposto per generare statistiche dettagliate. Puoi monitorare costantemente il mandamento delle vendite e scegliere di investire soltanto nei canali di marketing più vantaggiuli. Adesso che stai in possesso di tutte le informazioni, cosa aspetti ad integrare Mr.Dally per la tua attività? Non esitare, compila il modulo contatti che trovi sul sito www.MrDally.com per ricevere una demo ed iniziare fin da subito ad aumentare il tuo fatturato per gli ordini online.